Il capolavoro di Blake e Edwards Una satira spietata del mondo del cinema Per mano di una comparsa indiana Che involontariamente invitata a un party Compirà una serie di azioni catastrofiche Raffinato, surreale, eterio Un Peter Sellers irripetibile Il film del 1968 Il titolo originale è The Party Il genere è commedia Signori, non perdete questo film